Paolo Grimoldi, la Lega Nord è fortemente critica su questo decretto per la terra dei fuochi, perché? Perché concede soldi a pioggia, perché dà accesso ai fondi comunitari europei che poi per il 50% sono pagati dai fondi nazionali fino al 2020, quindi non mette neanche una scadenza sull'intervento della terra dei fuochi, siamo stufi di continuare a pagare una volta i rifiuti, adesso l'emergenza ambientale della terra dei fuochi, sempre alla regione campagna, i cittadini del nord che fanno la raccolta differenziata, che non vanno in giro a bruciare i rifiuti nel tempo libero e che rispettano le regole, si trovano anche a pagare fior di tasse sempre per i rifiuti, alcuni dei quali tra l'altro lo Stato centrale non possono continuare a sborsare fior di soldi per provvedimenti di questo tipo. Poi se anche si volesse pensare che è giusto intervenire sulla terra dei fuochi, io mi chiedo per quale motivo esiste qualcuno più uguale degli altri nelle emergenze ambientali. Ci sono emergenze ambientali al nord come l'amianto d'Alessandria, la diossina a Seveso o i problemi di Porto Marghera che aspettano da 30-40 anni e che hanno avuto addirittura 1800 morti, parlo del caso dell'amianto di Alessandria, certificati, eppure lì i soldi non arrivano mai. Allora è ora di finirla che arrivano sempre i soldi a pioggia per le medesime zone del paese, noi a questo diciamo no. Avete criticato fortemente anche Agea, perché? Sì, perché tra l'altro è da quando si è insediato il governo Monti che sentiamo la barzelletta della spending review, cioè i tagli ai costi dello Stato invece che aumentare le tasse. Fermo restando che noi siamo assolutamente favorevoli alla spending review. Da quando si è insediato Monti, passando per il nuovo governo, di acqua sotto i ponti ne è passata, tutti parlano di spending review ma non si è mai visto niente. Nella spending review sarebbe prevista l'abolizione di questo ente, l'Agea, che dovrebbe essere soppresso. Peccato che questo ente nel decreto sulla terra dei fuochi viene invece gravato di nuovi compiti e quindi non c'è assolutamente nessuna volontà di fare una spending review seria, almeno che non sia semplicemente chiacchiere al vento, perché in realtà vogliono soltanto mantenere le tasse già messe ma non vogliono tagliare nessuna spesa dello Stato. Quindi noi non possiamo che essere contrari a questi provvedimenti. Per noi la soluzione di un governo normodotato e sano di mente sarebbe quella di tagliare le spese dello Stato e invece continuare a rompere le tasche i cittadini.